Sinceramente non so ancora bene cosa aspettarmi, ma sicuramente qualcosa di positivo. Già è stato un grandissimo piacere ricevere l'invito. È un festival che per la prima volta visito tra l'altro, ma era tantissimo tempo che avrei voluto farlo. Quindi mi è capitata questa occasione e l'ho presa al volo perché davvero non vedevo l'ora. Ma non so ancora cosa aspettarmi, credo che andrò a braccio, vediamo un po' cosa succederà. La prima cosa che mi viene in mente purtroppo è declinarla nel senso più negativo del termine perché la prima cosa che mi viene in mente appunto è il viaggio dei migranti al quale assistiamo quotidianamente ormai da moltissimo tempo, insomma. Per cui una distanza che spesso è assolutamente incolmabile. Per quanto riguarda proprio un discorso molto diretto, cioè distanza chilometrica intendo dire, insomma, no? Che a volte viene coperta, altre volte meno, ma poi con risultati che non si sa bene poi quali siano effettivamente perché non è detto che poi arrivare da un punto A a un punto B significhi sempre miglioramento nella maggior parte dei casi questo non accade. E per quanto riguarda invece una distanza dal punto di vista umano mi vengono in mente moltissime cose che riguardano non solo gli affetti, intendo dire, ma anche semplicemente la convivenza civile e sociale proprio all'interno di una comunità. Il sogno sarebbe quello di abbatterla alla distanza in qualche modo, almeno laddove è necessario farlo, insomma, ma purtroppo non sempre è possibile, insomma. Sono rimasto un po' sul vago, non ne rendo conto, ma insomma, sì. Proprio perché è un posto di aggregazione che richiama moltissima attenzione da parte di moltissime persone, è pur vero che chi si avvicina a Giffoni probabilmente ha già una struttura di un certo tipo, ha già un background di un certo tipo, per cui probabilmente si sfondano delle porte aperte, ma un po' per il passaparola, un po' perché appunto i numeri sono quelli che conosciamo riguardo a Giffoni, probabilmente non fanno altro che amplificare questo tema, quindi portarlo a conoscenza di più persone possibili. Più se ne parla e meglio è, ovviamente, insomma. Grazie.